Completamente distrutto, lo vedete dalle immagini, il chiosco bar surfcaffè sulla litorania salentina Lido Torretta Marina di Lizzano. Frequentatissimo d'estate, il locale era chiuso invece per la stagione invernale, più facile così da prendere di mira, ed è stato travolto dalle fiamme. L'origine del ruogo è ancora un mistero. Stanno lavorando in queste ore i vigili del fuoco di Manduria, che hanno spento nella notte l'incendio, dopo una segnalazione, a quanto pare, giunta da alcuni passanti, arrivata in centrale operativa poco prima della mezzanotte. Oltre alle verifiche dei pompieri, è stato aperto un fascicolo di indagine da parte dei carabinieri della compagnia di Manduria, in azione con gli uomini della stazione di Lizzano. Nessuna pista al momento esclusa, incensurati i titolari del locale, il che allontanerebbe l'ipotesi del movente legato al mondo del crimine. Certo è che Lizzano è un territorio sensibile a questo genere di attentati incendiari, l'attenzione delle forze dell'ordine per cui resta sempre alta. Le fiamme hanno divorato velocemente la struttura tutta in legno, distruggendo anche quanto era all'interno scaffali e bancone. Il fuoco ha raggiunto anche una rullotta in sosta nei pressi del surf, un ruogo insomma che avrebbe reso inagibile praticamente da sostituire il prefabbricato. Un mistero le cause, un mistero l'eventuale movente, saranno le indagini a fare luce sull'episodio.